Ho vinto 700 euro Non sto scherzando Ho vinto Dani cazzate Dai non posso chiedere Bella ragazzi io sono Dani E lui è padre e oggi Che faremo vale? Gratta e vinci challenge abbiamo speso 200 euro in gratta e vinci E vinceremo 500 euro facili Mamma mia quando siamo andati in labio che sto per 200 gratta e vinci Mi hanno mandato tutti a fanculo Fate proprio quattro giro di Roma Però iniziamo Chi vince di più vince Cioè chi vince di meno vince lo schiaffo in faccia Va bene? Ci stai? Ma lo prendo sempre io lo schiaffo in faccia Ok Iniziamo No raga Ho vinto 700 euro Non posso chiedere Non posso chiedere Non posso chiedere Non posso chiedere Non è vero Ma vaffanculo Che tave lo ho intaccato pure io Vaffanculo Veloce lo sentivo Pensavo Possiamo Ragazzi Ho vinto 700 euro Regà Potete vedere le play Se guardate la videocamera Ci vedo io che sto tipo immobile Tieni secondi Ho vinto 700 euro Non sto scherzando Ho vinto Dai Cazzo Dovete vedere la mia faccia Quando Valle dice Non sto scherzando Ho vinto 700 euro Non sto scherzando Ho vinto Dai cazzo Regà io ve lo giuro Pensavo davvero di aver vinto Ragazzi in poche parole Valerio è un coglione Ragazzi Non sa contare E fallisce matematica Riniziamo vai Quindi abbiamo cartato tipo 5 Non abbiamo ancora vinto un cazzo Quindi non vediamo Questo per te Ho vinto davvero Ho vinto davvero Però poco Quanto hai vinto? 3 euro I primi 3 euro vinti Ce l'abbiamo Dai noi Qua dove ci mettiamo tutte quelle di più Ok 3 euro Quindi stiamo 3 euro a 0 eh 6? Regà una cosa Premio 7 euro 7 euro 7 euro 7 euro Già stiamo a 10 euro su 100 rifatti Dai noi Già un decimo Allora Dai Facciamo Manco Che hai vinto? Non so 3 euro Porca Sette e mezzo Eh questo è bene Sette e mezzo 1 euro 3 euro 3 euro Porca puttana 16 euro Siamo arrivati a 16 euro ragazzi Cioè quindi queste qua sono tutte O gli altri dai Andiamo a vedere Aspetta Allora Queste qua sono tutti quelli che abbiamo perso E possono andare qua E queste cose sono i vincitori Abbiamo un vincitore Non abbiamo ancora finito Però abbiamo un vincitore da 3 euro Uno da Da 3 euro Uno da 7 euro E uno da 3 euro Quindi stiamo a 16 euro per adesso E ci mancano questi qua Che sono 1 2 3 4 5 6 7 Grattacchi da 3 euro Sì tanto Faccio Prossimo Questa è una merda Ha fallito un'altra volta Perché noi facciamo schigo Sì E su 100 euro spesi Abbiamo guadagnato 16 euro Quindi non comprate Grattacchi da Vinci Scherzo Poi 16 euro Che sono pochi Che puoi rendere Quello al McDonald's Tipo 3 volte Sì ma su 100 euro Su Perfetto Ora facciamo l'altro Che la fai te Perché io non sono una checca Vai Cosa? L'altro non la fai te Perché io non sono Una checca Vai Allora ragazzi Io sto parlando Perché io sono la checca Qua e lui no E Spero che questo video Mi sia piaciuto Lasciatelo un like Anche se abbiamo Due persone Che ci seguono Arriviamo a Tre like Per un prossimo video 20 like Calmo Stai calmo Bella